Oggi voglio fare un gioco di carte magico. Ci stanno quattro re, facciamo finta che loro stanno dentro una stanza, ognuno c'è una stanza sua. Uno qua, uno qua, uno qua e uno qua. Poi dentro questa stanza entrano quattro nove e ognuno va ad una stanza dove sta il re. Uno qua, uno qua, uno qua e uno qua. Poi arrivano quattro assi e ognuno entra in una stanza dove stanno l'altri. Uno qua, uno qua, uno qua, uno qua. Poi infine arrivano quattro otto e si mettono sempre ognuno dentro la stanza dove stanno l'altri. Uno qua, uno qua, uno qua, uno qua. Buonanotte stanno a dormire, la mattina si svegliano, sono tutti gli incoglioniti, escono tutti quanti dalle stanze e se mischiano, ognuno non sta proprio col gruppo suo, no? E insomma, e niente, si mettono qua, si organizzano un po' di qua, un po' di là, rimette un po' di qua, un po' di là, rimette un po' di qua, un po' di là. Alla fine escono da starbergo e ognuno, diciamo, riforma il gruppo. Magicamente, ognuno ritorna col suo proprio gruppo. I quattro assi, i quattro nove, i quattro otto e i quattro iegi.